Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Stamattina mi sono svegliata alle 6 perché avevo dei dolori fortissimi allo stomaco. Adesso sto meglio, però ho deciso lo stesso di fare un video. Quindi se mi vedete un po' pallida è perché mi sono svegliata molto presto stamattina. Questo video parlerà di alcune conversazioni assurde che voi non credevate possibili. E invece sono conversazioni reali. Ecco la prima. Sbaglio o ti ho appena visto che correvi per il corso? La persona che hai visto scivolata sulla rete avesse schiantata per terra? Sì, ero io. No, cioè praticamente, praticamente questa persona è scivolata sulla neve. E' come se vede fosse, lo diceva, a quell'altra persona. Vabbè, lasciamo perdere. La terra non è piatta. E tu che ne sai, dimostramelo. E praticamente questa persona, come potete vedere, ha inviato l'immagine di una piccola terra per far vedere che non era piatta. No, cioè quelle sono le grosse teorie, i misteri della vita che voi non potete mai capire, neanche io lo capisco. Quindi lasciamo perdere. Mi serve un consiglio. Intendi dire che hai fatto esattamente l'opposto di quello che ti avevo consigliato di fare e ora che la tua situazione è peggiorata ti serve un altro consiglio da ignorare? Sì, cioè praticamente questa persona ha chiesto un consiglio da un'altra persona, poi l'ha ignorato e ora sta peggio di prima. Allora che cavolo non chiedi a fare i consigli se poi li ignori? Questa è bella. Salve prof. Un ultimo messaggio per lei dopo aver finalmente raggiunto la laurea che è stato un grandissimo obiettivo atteso per anni. Sono contento per lei, in bocca al lupo per tutto. Mi dica, vado a fare il culo per lei e tutto l'ambiente universitario. Cioè questa è classica. Cioè non so che cosa dire perché da come l'aveva detto sembrava all'inizio che volesse dire una cosa bella a quel professore. Quello si è visto praticamente così. No, non è possibile. Anche questa non è niente male. Amore, posso tornare a dormire con te stanotte? No. Dai, il divano è troppo scomodo. La prossima volta ci pezzi due volte. Ma dai, era solo una piccola scoreggina. Silenziosa e infame, mi hai pure rinchiuso sotto le coperte. Purtroppo chi decide... Di sposarti... Corre questo rischio che... E poi quelle silenziosi sono le peggiori. Però, cioè, vabbè, dai. Spero che... Lui abbia imparato la lezione. E ne lo perdoni perché... Sono cose che capitano, dai. Non è successo niente. Sempre una conversazione tra una coppia. Praticamente qua dice... Buonanotte, amore. Sei il mio topino profumato. Sonni d'oro. Amo, mi so cacato... Tosso. Con una... Correggia. Cioè, senza la S, praticamente. La S è andata in vacanza. Io sono senza parole. Io sono senza mutande, risponde lui. Cioè, vabbè. Dai, quasi si sta esagerando. Invece, sentite questa. Sei stupenda comunque. Mi piacerebbe vederti dal vivo. Grazie. Quanti anni hai? 28. E tu quanti anni hai? 15. Ma come ti permetti ad avere 15 anni e dimostrare 25? Ma io ti denuncio per intralcio al rimorchio. Vabbè, non so che cosa dire in questo caso. Cioè, ci sono io che sembro un adolescente, c'ho 26 anni, ragazzi, e ci sta questa qua di 15 anni che forse ne dimostra 25. Può succedere. Però c'è lui che lo vuole denunciare. Poi, poverina, che colpa ne ha? Dove sei? Fortuna che mi hai scritto. Sono chiusa a chiave in soffitta. Ma perché? C'è qualcuno che sta suonando il citofono di casa mia da 10 minuti e mi sto cagando sotto. I veri non ci sono e hanno detto di non aprir perché girano lì dingari. Ma hai provato a rispondere e chiedere chi è? No, e allora apri sta cagando la porta perché sono io con lui. Questo proprio non ho parole. Cioè, praticamente, l'amico è andato a trovare ed è rimasto fuori chiuso perché lui aveva paura di andare ad aprire la porta. Ma almeno andare a chiedere chi è appunto. Proprio, diciamo, perdere. Che fai? Ho lavato i capelli. Sto contando quanti ne ho persi. Credo che tra due e tre settimane sarò calva. Abbiamo le stesse paranoie, vedo. Cioè, praticamente, uno si mette a conto i capelli. Allora, vediamo io, per esempio. Un capello, due capelli, tre capelli, quattro capelli, cinque capelli. Una parola a contarli tutti, ragazzi. Cioè, ma è impossibile. Amore, faccio un salto a vedere un negozio, cinque minuti arrivo. Non farlo, vieni subito. Faccio subito, giuro. L'ultima volta che l'hai detto, sei arrivata tre ore dopo piangendo perché avevi speso 150 euro a caso. È successo di nuovo, scommetto. Giuro che stavolta non piango. Proprio non ho parole. E con questo finiamo. Allora, qua dice. È incredibile come certe persone riescono a trovare l'amore della loro vita all'università. Davvero, io all'università non riesco neanche a trovare l'aula esatta della lezione figurativa amore della vita. Giustamente. Ragazzi, spero che vi siete divertiti a sentire queste conversazioni. Più in là magari ne posso fare altre. Cercare altre conversazioni, magari più specifiche, tipo conversazioni tra due fidanzati o tra mamma e figlia o altre cose. E ci rivediamo presto con un nuovo video.